Riparte la Superbike, lo fa dal Motorland di Aragon per il primo appuntamento stagionale in una tre giorni di Racing Podcast sul mio canale dopo aver parlato ieri della Formula 1 Oggi parliamo della Superbike, domani invece alle 19 parleremo della MotoGP che corre oggi, per me, domenica a Austin, Texas Voi ovviamente vedrete il Racing Podcast successivo per ovvi motivi Ma concentriamoci sulla Superbike, come sapete a priorità rispetto alla MotoGP per esordio stagionale Un'esordio stagionale è stato assolutamente importante e spettacolare con i due vecchietti, due grandi veterani di lungo corso Che hanno dato spettacolo in confronto a una new generation che in realtà tarda ancora ad arrivare Parliamo di Jonathan Ray su Kawasaki e Alvaro Bautista su Ducati in una tre giorni di gare, due meglio Che ha regalato due gare lunghe e spettacolari e una Super Bowl Race dominata da Alvaro Bautista Ma come al solito partiamo dal resoconto del sabato e partiamo dalla grande immagine che vediamo Ovvero il duello tra Alvaro Bautista e Jonathan Ray che si è consumato in tutta la prima gara del sabato e pomeriggio Al Motorland di Aragon con una Ducati che ha dimostrato ancora una volta di avere una grandiosa voce di punta Lo si vedeva tantissimo sul rettilineo Ma abbiamo visto come Jonathan Ray in questo caso abbia avuto quel guizzo in più, quella qualità in più del campione Per rimediare allo scompenso di velocità che aveva rispetto alla moto di Borgo Panigale Bautista spesso nell'ultimo rettilineo andava a superare Jonathan Ray Ma poi il pilota nordirlandese che quest'anno corre col numero 65 in carena Ha spesso poi incrociato all'ultima curva per aver ragione poi del suo diretto avversario La vittoria di Jonathan Ray arriva di fatto in volata dopo che evidentemente anche degli ultimi giri Bautista Sembrava arrancare un po' a nulla però vale il tentativo di rimuovere lo spagnolo Che comunque avrà modo di rifarsi in gara sprint e a gara 2 alla domenica Per un primo podio di Superbike che vede di fatto i big 3 di questa disciplina evidentemente nelle prime tre posizioni Con il cannibale Jonathan Ray che conquista la 113esima vittoria in carriera Ovviamente è sempre più il pilota vincente di tutti i tempi in Superbike Con Alvaro Bautista II e Toprak Rasgatioglu III Un Rasgatioglu che non era in realtà in formissima perché la Yamaha R1 non era evidentemente la moto più indicata in questa pista di Aragon Ma comunque Rasgatioglu per quanto sia mezzo deludente ha di fatto bene limitato i danni In ogni caso è un po' odio nobile perché evidentemente questi tre la diranno molto evidentemente anche nelle gare successive Passiamo velocemente al resoconto della gara della domenica o meglio delle gare della domenica Questo è il podio della Super Bowl Race con un Bautista che nei dieci giri di gara riesce in realtà a imprimere questa volta un distacco importante E vince con margine rispetto a Jonathan Ray e a Toprak Rasgatioglu Qui in questo caso a differenza della prima gara dove evidentemente abbiamo avuto una volata finale per la vittoria Qui le posizioni anche del podio erano più cristallizzate Se io che comunque questo poteva già essere un indizio importante per quanto riguarda la domenica A pomeriggio un Bautista che era probabilmente l'uomo da battere Ricordiamo che Bautista in questa pista ci ha già vinto Jonathan Ray non era comunque da sottovalutare Vista comunque la grande qualità evidentemente nel nord irlandese su questo tracciato E poi c'è la Rasgatioglu che era un po' a bagnomaria ma Rasgatioglu ha dimostrato di avere qualche difficoltà in più Quanto meno in questa pista ma secondo me il turco andrà aspettato nei prossimi appuntamenti Copione che in effetti si ripete appunto anche in gara 2 ma questa volta il monologo di Bautista è molto più importante Perché il distacco è abissale rispetto agli altri avversari e di conseguenza c'è ancora una volta spazio per una vittoria dominante Che a tratti ricorda quella che avvenne di fatto con lo stesso Bautista in Ducati nel 2019 Quando evidentemente il binomio era ancora vincente Logicamente Bautista non è più quello di tre anni fa è un Bautista probabilmente più ragionatore e meno irruento Anche l'anno scorso evidentemente Bautista partì fortissimo e poi il mondiale lo getto via Qui in realtà è sembrato meno irruento molto più a suo agio già rispetto alla versione Ducati 2019 E ovviamente anche rispetto alla Honda che l'ha visto poco protagonista negli ultimi due anni Qui sembra un Bautista più quadrato ricordiamo che comunque parliamo di un ragazzo di 37 anni E comunque sicuramente è un buon viatico per una superbike spettacolare Che vedeva sulla carta il duello top Rasgattioglu-Jonathan Ray con Bautista terzo incomodo Qui in realtà il terzo incomodo è stato Rasgattioglu con Bautista Ray che evidentemente la spiegavano Con le due vittorie di domenica quindi di oggi per me che sto registrando di ieri per voi guardate questo video Bautista conquista le vittorie numero 17 e 18 della carriera e per lui suona la marcia reale Mentre per Jonathan Ray ha suonato God Save the Queen Per un campionato che vede comunque dei valori quantomeno ben definiti in queste tre gare di Aragon Con i Big Three sul podio in tutte e tre le gare in posizioni sfalsate per quanto riguarda Ray e Alvaro Bautista E quarto il primo dei nostri italiani Michael Rinaldi che comunque a tratti poteva lottare per il podio Abbiamo visto che questa Ducati è competitiva in velocità di punta Sicuramente c'è da migliorare per quanto riguarda Rinaldi invece il posteriore Il pilota Romagnolo ha avuto tanti problemi che lo hanno relegato di fatto nelle posizioni a margine del podio E non ha mai potuto difendere evidentemente queste posizioni nobili di classifica Rinaldi in gara 2 per esempio è stato sempre a tratti in lotta per il podio Comunque è ancora una volta la conferma che questa Superbike è altrettanto spettacolare Con delle case ufficiali veramente sul pezzo che comunque la spiegano anche alle moto clienti A differenza di quello che succede anche in MotoGP dove abbiamo visto già un Ducati clienti trionfare E moto clienti fare risultati di un certo peso Gli altri risultati e parliamo anche degli altri italiani impegnati Andrea Locatelli fa due ottime quinte posizioni Segno che ancora una volta l'Italia della Superbike ha delle faretre al suo arco molto importanti Quanto meno della top 5 sicuro Parliamo in questo caso di seconda Yamaha ufficiale per Andrea Locatelli E chissà in condizioni anche particolari anche per il podio Purtroppo il weekend di Locatelli è macchiato dal dicianesimo posto Ma per via di una caduta in gara 2 Axel Bassani fa una grandiosa domenica di gare Che va a rimediare un sabato disastroso con una sedicesima posizione Fa una grandiosa rimonta il pilota Veneto sulla Ducati del team motocorsa Fa settimo in gara sprint e addirittura sesto nella gara 2 Veramente straordinario il pilota di Feltre Luca Bernardi il sanmarinese d'assalto mi verrebbe da dire Dopo un ottimo debutto in dodicesima posizione Rientra un po' diciamo nelle zone a margini della zona punti Ma comunque per essere al debutto in Superbike un ragazzo di 20 anni È tanta tanta roba considerato appunto che non corre su una moto di primo livello Parliamo in questo caso di Ducati del team Barney E poi abbiamo come ultimo italiano a punti Roberto Tamburini Che lui invece è un veterano delle corse della Superbike Ha corso nella Stock 1000 Ha corso nel campionato italiano Superbike Gli è capitata questa grande occasione Parliamo di un classe 91 E fa un'ottima quattrocentima posizione in gara 2 Le altre piazzamenti sono purtroppo arrivati fuori dai punti C'era anche un altro italiano impegnato in terra di Aragon Ed era Gabriele Ruiu Wildcard con la BMW del team B-Max Ritirato in gara 1 19 mesi invece di settismo nelle altre due gare Per una BMW che è veramente a due facce Perché qui dobbiamo parlare anche delle altre case Se ci sono Ducati e Yamaha Che sembrano assolutamente competitive Insieme ovviamente al Cannibale e Jonathan Ray C'è una onda in crescita C'è una BMW che va a targhe alterne E per il resto è lotta per i team clienti Va a targhe alterne perché la BMW? Perché fa un'ottima prestazione con magari alcune moto clienti Vedi per esempio la gara 2 di Loris Bass Che finisce settimo Vedi per esempio anche le due gare su tre appunti di Eugene Laverty Fa una grandiosa prestazione con Ilya Mikalczyk Piloto ucraino di cui parleremo in realtà più avanti Delude tantissimo Scott Redding che finisce after the music In ogni caso se c'è appunto una BMW Che deve evidentemente risolvere ancora una volta i problemi E mi riferisco probabilmente al motore C'è una onda che invece è cresciuta tanto Perché quinto e sesto nel mondiale dopo evidentemente solo la prima gara Abbiamo Iker Lecuona e Ciavi Vierge Due piloti giovanissimi Lecuona viene ricordo dalla MotoGP Correva con KTM Tech 3 E Ciavi Vierge che invece lui viene direttamente dalla Moto2 Due onda che hanno rivoluzionato evidentemente il parco piloti Due piloti molto giovani che hanno fatto tanto bene Perché tre gare appunti non è una cosa scontata Considerato che la Honda non è l'ufficiale diciamo più di primo pelo Calcolando che parte uno step sotto rispetto a sia Yamaha Ma anche a Ducati e Kawasaki Se la può giocare ampiamente con BMW E al momento la gara degli ufficiali la vince nettamente La Honda con la nuova Fireblade 1000 In ogni caso è una superbike Che adesso prenderà due settimane di pausa E ritornerà prepotente ad Assen Un circuito totalmente diverso rispetto ad Aragon Un circuito molto più tecnico con pochi allunghi E vedremo se i valori nei Big 3 saranno confermati O se in questo caso Razgatioglu potrà fare quel salto di qualità Che comunque l'ha visto limitare i danni in questo momento Ma evidentemente ci si aspetta qualcosa in più Anche se si parla soltanto di terzo posto Per il campione del mondo in carica Rispetto a questo Bautista E soprattutto a questo Jonathan Ray Che mi sembra tanto tanto in palla Passiamo adesso come al solito ai premi del rider del giorno Come al solito in questo caso per la Superbike Ne do tre per gara Partiamo dalla gara 1 E il premio rider del giorno Lo posso dare sicuramente a Ilya Mikalcik Pilota ucraino L'avevo detto che ne avremmo parlato Mikalcik è il pilota di riserva del team ufficiale BMW Ha sostituito Mikhail Vandermark Che si è infortunato in allenamento E di conseguenza ha spazio per il pilota ucraino Che di base correrebbe il campionato Endurance Mikalcik pronti via all'esordio Superbike Fa ottavo Grandiosa prestazione per il pilota ucraino Poi la domenica in realtà non è così competitiva per lui Ma comunque ancora una volta a punti Anche in gara 2 Molto bene per un di fatto esordiente assoluto Così come molto bene abbiamo visto Axel Bassani Questo per quanto riguarda la gara 2 Un Bassani che ricordo corre con un team privatissimo Parliamo di due casi del team motocorsa Lui si merita sicuramente il secondo premio di rider del giorno Perché appunto già l'anno scorso ha fatto vedere delle cose molto importanti Abbiamo visto anche un polio nella gara bagnata di Barcellona E qui abbiamo visto che sull'asciutto comunque ha saputo tenere testa team ufficiali Perché con una Ducati privata ha battuto la onda ufficiale Tante BMW ufficiali Veramente tanta roba per Axel Bassani Che comunque ancora molto giovane Di conseguenza potrebbe essere un pilastro importante Su cui Ducati può investire per il futuro Il terzo premio di rider del giorno lo voglio dare in realtà Ancora una volta a un piazzamento di gara 1 Ma perché è uno dei miei pupilli Sapete che io sono un fan di Luca Bernardi L'ho sempre seguito anche già l'anno scorso in Supersport Mi aveva ben impressionato il pilota di San Marino E lo aspettavo con molta attenzione evidentemente all'esordio in Superbike E Bernardi di fatto non ha deluso le aspettative Perché con una Ducati che non è di primo livello Come appunto il team Barney riesce a fare una prestazione maiuscola in gara 1 Con una ottima decesima posizione E torna di fatto a rappresentare San Marino in zona punti Dopo che ci fu Alex De Angelis Quando uscì dalla Moto2 Parlando invece anche dalle delusioni del giorno Do due nomination in questo caso La prima è Scott Redding Che è veramente involuto rispetto all'anno scorso Evidentemente il cambio di moto non ha fatto bene allo scottone nazionale Ma veramente non mi aspettavo che ci fosse un passo Nettamente così indietro Perché comunque tutto sommato le altre BMW Tra Michalicic e Basel Avert Hanno fatto comunque meglio rispetto a Scott Redding Che è veramente involuto Non si è mai trovato bene Redding ad Aragon Ha fatto veramente fatica Se la rettura ha ritirato in gara 2 Per problemi evidenti Alla sua BMW 1000RR C'è da lavorare e tanto Redding aveva dato comunque dei buoni segnali Nei primi test per poi andare a fare il passo del gambro E qui evidentemente il gambro si è confermato Perché Redding è finito veramente after the music Un'altra delusione è Garrett Gerloff Secondo me perché sappiamo il pilota americano quanto sia talentuoso Certo sta molto in realtà ripartendo da zero come stile di guida e come tecnica E quindi i risultati sono anche figli di questo Ma Gerloff ricordo che con la stessa moto qualche anno fa Faceva dei po' dei risultati clamorosi Qui invece non ha dimostrato comunque le aspettative Quanto meno della vigilia L'altra delusione ed è un po' paradossale dirlo È Toprak Rasgatioglu Perché è vero che la pista non è favorevole Parliamo di Aragon È vero che qui doveva limitare i danni Però è sembrato inerme in realtà in questi terzi posti In altri tratti della pista Delle gare meglio Rasgatioglu era addirittura fuori dal podio E per un campione del mondo che deve difendere il titolo contro questo Bautista E questo Ray Di certo è ottimo limitare i danni in questo modo Ma bisogna farlo secondo me con un po' più di grinta Con un po' più di attenzione Cosa che non è stata magari fatta in questo contesto Rasgatioglu sembrava in difficoltà Cristallizzato quasi in questa terza posizione Comunque tre terzi posti sono oro che cola Rispetto magari a un inizio più deficitario Come magari potrebbe essere in altre circostanze Passiamo adesso alle altre categorie Perché hanno corso Supersport e Supersport 300 Ci sono tre protagonisti annunciati in Superbike Che sono Bautista, Ray e Rasgatioglu Ce ne sono due in Supersport Sono i piloti qui inquadrati Dominic Gerter e Lorenzo Baldassarri in arrivo dalla Moto2 Con due gare che hanno visto una volata pazzesca Tra lo svizzero e l'italiano Si spartiscono di fatto il bottino nelle due gare Il 77 e il 7 La prima gara la vince Lorenzo Baldassarri Con un salvataggio mostruoso Di fatto Baldassarri all'ultima curva La perde, va largo e Gerter viene coinvolto Finisce lungo, Baldassarri fa un numero da circo Non cade, salva la moto E taglia il traguardo per primo Facendo risuonare il canto degli italiani Battendo peraltro in volata Dominic e Gerter Che peraltro avrà modo di rifarsi In gara 2 Con una volata vinta peraltro di 30 millesimi Qualcosa di incredibile Dunque tanta carne al fuoco Per questa nuova Supersport Che ha cambiato il regolamento tecnico Ma alla fine Kawasaki e Yamaha Sono sempre, ancora una volta, le moto da battere E dunque la classifica recita così Al termine della doppia gara di Aragon Con Baldassarri e De Gerter Di fatto primi ex equo a 45 punti E terzo in classifica generale Nicolo Bulliga con Ducati Che dunque fa esordire nel migliore dei modi Questa V2 955 Nella nuova Supersport In realtà il terzo posto di Bulliga in gara 2 Per quanto meritato È in realtà figlio del ritiro di Janonku Che di fatto per problemi tecnici alla sua Kawasaki Deve ritirarsi e cedere la posizione al pilota di Montecchio Janonku in realtà avrebbe fatto terzo posto Esattamente come in gara 1 Segno che appunto la Kawasaki in questo momento È superiore rispetto a questa Ducati Che ha una cilindrata superiore Rispetto alle 600 di Yamaha e Kawasaki Ma è evidentemente limitata Così come sono state limitate Anche le altre case nuove Di cui parleremo tra poco In ogni caso È uno Supersport che a me piace tanto Perché ci sono tante moto coinvolte Tante moto più equilibrate di altre Alcune penalizzate Vedi per esempio Ducati ed MV su tutte Però comunque abbiamo visto tanti piloti Soprattutto che lottavano Nelle posizioni che in realtà non contavano Perché appunto in queste due gare di Aragon Baldassarri ed Egerter Campione del mondo in carica Peraltro Egerter Hanno dato veramente lezioni di motociclismo Gli altri piazzamenti appunto abbiamo visto Bulliga che fa comunque top 10 e top 3 Con una Ducati V2 del team Aruba 9.55 quindi benissimo Per Niccolo Bulliga L'esordio in Supersport L'MV Agusta La nuova MV Agusta Fa una prova solida Con Nicky Turi Che fa sesto e quinto Appunto nelle due gare C'è anche Gloria Per Bahattin Sofoglu Il nipote del re Il nipote di Ken Anche fa punti a sua volta Per quanto Bahattin Sofoglu Lo vedremo impiegato soltanto In nove gare Su due le dodici previste L'altra moto che è entrata Nuova di prepotenza È la Triumph Street Triple RS Con appunto Stefano Manzi Altro piazzamento in top 10 Per il pilota Che anche lui viene dalla moto 2 Settimo e ottavo Per queste case Che è vero Hanno fatto delle buone prestazioni Se consideriamo appunto Che hanno fatto punti In maniera abbastanza facile Il problema è che Io sinceramente Mi aspettavo una Ducati Più competitiva Che andasse quantomeno A giocarsela Con questa Yamaha E questa Kawasaki Evidentemente I tagli E le limitazioni fatte Soprattutto a Ducati Ma anche a Triumph E a MV Agusta Hanno evidentemente Bilanciato i valori Ancora verso le moto Di vecchia generazione Quindi Yamaha e Kawasaki Magari era questa pista Che evidentemente Non dava una mano A queste nuove moto Dei cilindrata superiore Però è strano Come appunto Le moto da battere Siano ancora Quelle vecchie Per cui è stato cambiato Il regolamento Quello evidentemente Del dominio Kawasaki Yamaha Questa era la Supersport Che un tempo era la 600 Potremmo chiamarla Come ha detto giustamente Edoardo Vercellesi La Supersport Nujen Passiamo invece alla 300 Che invece è rimasta uguale Ma ha avuto anche qui Una cosa molto particolare Perché come in Superbike I primi tre classificati Sono di fatto I tre delle gare Che abbiamo visto Al sabato Con piazzamenti invertiti Vince Mark Garcia La prima gara di Aragon Mark Garcia È il campione mondiale Di Supersport C100 del 2017 Secondo È Alvaro Dias Su Yamaha E terzo È Lennox Lehman Che ha fatto veramente Una grande Grande prova Che lo ha visto Protagonista Di una strepitosa rimonta Dalle posizioni Di fatto in fondo Alla classifica Dalla qualificazione Rimonta Oltre 20 posizioni E fa terzo In entrambe le gare In due gare Peraltro molto diverse Perché la prima La vince Mark Garcia Appunto In solitudine Di fatto dominando Gli avversari La seconda La vince Alvaro Dias Sì in solitudine Ma di fatto Dando la scrematura definitiva A tre giri dalla fine Lasciando di fatto La mega volatona Di gruppo finale Tra Mark Garcia E Lennox Lehman Appunto Vinta da Mark Garcia Così come in Supersport Dunque ci sono due piloti In testa A pari punti Con 45 punti E terzo Appunto È l'unica KTM in pista Ovvero Lennox Lehman Ci sono stati anche tanti altri italiani Protagonisti Ma per le posizioni Purtroppo fuori dal podio Il migliore è stato Bruno Ieraci Che fa quarto in gara 2 E decimo in gara 1 Per il miglior piazzato Evidentemente in classifica generale Discreto Mirko Gennai Che fa ottavo e sesto Marco Gaggi Fa nonno e decimo E poi Matteo Vannucci Fa settimo In gara 1 Ma si ritira purtroppo Via anche di una caduta Che l'ha visto coinvolto In gara 2 L'altro italiano a punti È Kevin Sabatucci Che fa un nono posto In gara 2 Quindicesimo in gara 1 Ultimo italiano invece Classificato Nei punteggiati È Gabriele Mastoruca Quindicesimo Sfrutta anche Tante cadute Il pilota col numero 80 Ma comunque Abbiamo già di fatto 19 piloti a punti Dopo soltanto due gare Questo è il segno Che la Super Sport 300 È sempre ancora una volta Una categoria equilibrata Con due case Che dominano su tutti Ovvero Yamaha e Kawasaki E una sola KTM Ma che è tanto tanto competitiva Col giovane pilota tedesco Che appunto abbiamo detto prima L'Helnox Lehmann Super Sport 300 Super Sport E Super Bike Si ritroveranno dunque Tra due settimane Nel weekend Dove ci sarà anche Imola Il Gran Premio di Formula 1 Dove sarà presente E anche la MotoGP Per la solita grande Contemporaneità dei calendari Tra appunto due settimane Ad Assen Questo era il Racing Podcast Complessivo Delle derivate della serie Fatevi sapere cosa ne pensate E saluto da parte Di Matteo Torgard Ci vediamo domani Con il Racing Podcast Della MotoGP